Abbiamo qui con noi anche l'amico Ottavio, amante pure lui del sole, del mare, spiagge... Ah, della pineta, pure dell'acqua rossa, bruciacchiata, eh. E ho provato ieri, ma conviene non andarci perché può darsi che mi arrestano e non c'entro niente. Io sono corridore, quindi pura Ostia, per esempio, i corritori non possono accedere alle pinete. Basterebbe che le società dassero gli indicativi di tutti i nomi degli iscritti, no? Quindi la squadra Ostiense, la squadra di Castelfusano, amante... fa un passaggio da destra del pontino a sinistra del pontino, in modo che... Registra, eh? In modo che non te bagni i piedi perché non sempre si riesce a passare con l'acqua alta lì sotto, no? Quindi fai tutto un giro, faticoso e non è bello. Perché le spiagge, per ipotisti, qua giù, diciamo, nelle spiagge del Lido, come si chiama laggiù? Vabbè, la Pineta, no, la Pineta, Castelfusano, Mediterraneo, la Liga Navale, lì sono belle spiagge, che quindi sono pure piatte e ci sono arriva bene fino al canale. Poi dopo dell'A, dell'A è il muro, il muro del Berlino. Vabbè, questo è, io l'unica cosa che credo oggi, come oggi, questo passaggio sul pontino, che basterebbe togliere un pezzetto, una scaletta di qua e una scaletta di là.